amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive questa puntata è dedicata a questa vettura che ormai abbiamo già fatto vedere in almeno due occasioni che dopo finalmente un anno di lavoro perché devo dire è costato più di un anno di lavoro si è riusciti finalmente a completare per cui mancano proprio le ultime due tre finiture ma ormai la macchina direi che è completa rispetto a quando c'è arrivata quindi risalgo un po' innanzitutto stiamo parlando di una mini prima serie John Cooper Works nella versione GP quindi una macchina che è stata costruita in 2.000 esemplari ed è una macchina appunto molto particolare a livello motore chiaramente al motore della John Cooper Works quello che cambia radicalmente come abbiamo fatto vedere la volta precedente è la parte diciamo di peso quindi quello che la rende molto particolare a livello prima di tutto di guida una macchina che è un rasoio nel senso una macchina di una direzionalità veramente incredibile i cavalli non cambiano rispetto a una normale dell'epoca John Cooper Works con compressore volumetrico cambiano le prestazioni in funzione del fatto che ad esempio mancano i sedili posteriore è stato diciamo si è lavorato molto sulla riduzione di peso il resto è proprio un progetto che la casa ha deciso di adottare cioè non stravolgere quello che è il principio di base fare poche pochi interventi molto mirati direi che sicuramente sono riusciti nell'intento questo è la parte centrale del lavoro che come dicevo ci ha comportato una diciamo un dispendio di tempo notevolissimo perché tutta la macchina ci è arrivata in scatola di montaggio era una macchina che era destinata alla demolizione era già stata completamente smontata di carrozzeria motore il motore era fuso aveva avuto un problema meccanico grosso per cui era fuso il proprietario non trovando ricambi non avendo nessun tipo di possibilità di riparazione alla fine ha deciso di demolirla chi l'ha acquistata l'ha acquistata proprio in scatola di montaggio prima che venisse pressata diciamo così ha avuto la fortuna di acchiapparla ci è arrivata su carroattrezzi quindi la carrozzeria completamente nuda il motore già smontato e lì abbiamo dovuto pian pianino pian pianino metterci per ricostruirla tutta il punto come dicevo fondamentale era appunto il motore dove ci abbiamo messo nel revisionare motore precedente era impossibile perché non si trovano i ricambi neanche la mini dai ricambi e quindi abbiamo dovuto abbandonare quella strada che era la più logica e la prima che avevamo preso in considerazione quindi abbiamo sprecato diciamo così tanto tempo per trovare un motore analogo un motore coevo di un'altra john cooper works finalmente ne abbiamo trovato uno con garanzia quindi un motore che ci dava sicurezza che non fosse appunto troppo chilometrato che avesse delle problematiche l'abbiamo comunque smontato l'abbiamo controllato è stata cambiata la frizione cioè l'abbiamo come dire rimesso a nuovo anche se era già sufficientemente messo bene tutte le componenti esterne invece sono state diciamo mutuate da quindi compressore alternatore scatola filtro cavica in bobine carica tutto tutto quello che è la parte esterna le abbiamo mutuate dal dalla 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 vettura originale e questo come come motore adesso l'abbiamo risolto poi tutta la parte carrozzeria la carrozzeria è stata completamente riverniciata le caratteristiche sono appunto questo colore particolare gli specchietti rossi e il tetto grigio ecco una parte che manca ancora perché è disponibile ma ci vogliono dei mesi per averla qua manca un adesivo che ci deve arrivare dalla bmw che identifica il numero seriale della macchina quindi la macchina come dicevo sono 2000 esemplari questa mi sembra ricordare che era la 1242 adesso non ricordo esattamente comunque è stato ordinato il ricambio esattamente uguale a quello precedente ovviamente per verniciare al tetto quello precedente l'abbiamo dovuto eliminare e quindi verrà poi posizionato il suo bel numero di serie quando ci arriverà cerchi completamente questa macchina aveva su dei mancavano i cerchi c'era aveva montato dei cerchi che non c'entravano niente quindi abbiamo recuperato cioè comprato proprio non recuperato i suoi cerchi dell'epoca originali proprio fatti 18 pollici 4 petali nero opaco abbiamo cambiato ovviamente le gomme perché quelle che c'erano erano ovviamente andate completamente poi siamo intervenuti sull'impianto frenante quindi dischi pastiglie ammortizzatori nuovi abbiamo rivisto diciamo la linearità dell'impianto di scarico e poi ovviamente ci siamo messi all'interno per ricostruirla adesso qua dobbiamo sistemare le ultime cose per ricostruire tutta la parte interna in maniera tale che ripeto non c'era neanche il cruscotto cioè abbiamo dovuto anche tutti i tastini l'impianto l'abbiamo completamente svuotata completamente svuotata e quindi pian pianino pian pian pianino l'abbiamo cercato di ripristinarla e di portarla più o meno al suo aspetto originale poi ovviamente ci sono alcune cose tipo non so il pomelo la leva del frenamano che sono i suoi originali che sono vissuti dal tempo ci sono alcune cose che chiaramente non si possono o si trova ricambio originale o non si può intervenire più di tanto per il resto direi che la macchina a questo punto finendo le ultime due o tre cose è ritornata rispetto a come già stata consegnata è ritornata praticamente nuova ci tenevamo appunto a farvi vedere questo lavoro perché ci ha impegnato veramente tanto è stata da noi veramente un sacco di tempo forse uno dei lavori più lunghi che abbiamo gestito il cliente per fortuna ha portato pazienza ci ha dato retta non ci ha fatto fretta e questo è fondamentale perché fare lavori di questo genere con la fretta sono disastrosi cioè se appena abbiamo un sentore che il cliente ha fretta non prendiamo il lavoro perché per fare le cose fatte bene o uno al tempo necessario per poterlo fare basta anche solo un che manchi non so un piccolo ricambio e il lavoro si blocca quindi al cliente diciamo noi prendiamo in carico il lavoro ti consegneremo la macchina quando sarà finita in questo caso andiamo oltre l'anno e mezzo però ci siamo sentiti varie volte col cliente lo sa appunto come lavoriamo gli mandiamo le foto dei lavori via via che questi proseguono direi che tutto sommato ormai ci siamo settimana prossima rimangono appunto le ultime due o tre cose settimana prossima contiamo di andare in consegna quindi anche per questo direi che questa mini qua dopo la terza puntata non la rivedremo più ci faceva piacere farvela rivedere per il momento anche per questa puntata è tutto se avete bisogno di qualunque informazione consultate il sito www.9legiri.it andate a consultare in particolare l'archivio elaborazioni contattateci telefonicamente per qualunque esigenza 02738 02738 3175 luca soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre collegati con tutto quello che facciamo alla prossima ciao